ecco il primo bravissimo bravissimo grandi vai ragazzo vai bravissimi bravissimo bravi 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 bravissima vai marco vai ai marco ai ai marco ai genziano maradona dai luigi vai ai luigi vai grande bravissima vai ragazzo bravissimi andiamo un po' genziano su su genziano altrimenti non vi porto più vai vai ragazzo vai curva pericolosa bravissimi vai genziano vai vai giulio vai a giulietto bravissimi 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 brava brava vai maria vai hai ragazzo vai quasi finito il primo giro il primo giro è quasi andato vai e ha Vai Rita, vai! Il primo giro è quasi fatto, sì. Bravissimi! Grazie per il ragazzo, non dovevi. E vabbè. Secondo, se mi ricordi a che giro stavo perché... Sì, sarai il terzo forse. Terzo giro? Ho perso il conto, sì, terzo giro. Un altro paio di giri stai... Bravissimo, vai! Se non ci vediamo più ci vediamo all'arrivo. Bravissimi tutti! Voglio fare appunto. Sì, prego. Di sera.